assolutamente sì eh prego no no per carità il problema è questo che lui deve dire che l'assessimista ero in un bar ero un ribagno comunista e sei per là, sei per là sono stati in un bar ma quando va tutti ci siamo stati qua io sono casino della polizia se non faccio la testa sono stati ma non si non si non ci sono grazie 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 buona giornata ciao grazie 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 a voi buona giornata ciao ciao grazie a tutti Grazie.